Buona giornata amici oggi è giovedì 18 novembre 2021 ebbene siamo ancora insieme per dare un'occhiata ai giornali iniziare la giornata passando prima per vedere cosa celebra oggi la chiesa cattolica e poi passare per il meteo oggi non c'è un santo particolare la chiesa cattolica celebra la dedicazione delle basiliche ai santi pietro e paolo la basilica costantiniana di san pietro la prima che è stata costruita in vaticano è stata poi sostituita dalla celebre basilica l'attuale costruita da giuglio secondo durante il rinascimento e poi la basilica di san paolo sulla via ostiense che è purtroppo andata in fumo vittima di un incendio nel 1800 ricostruita c'è il celebre architetto poletti che poi ha fatto anche il teatro della fortuna di fano e ne ha reso un tempio molto molto celebre e ovviamente importante dato che sul luogo si è martirizzato san paolo apostolo e vediamo ora le previsioni del tempo il tempo è ancora incerto è ancora brutto diciamo così però dovrebbe essere l'ultimo giorno perturbato sulle marche con piogge sparse specie sui comparti centro orientali vedete ancora la mappa cosparsa di nuvole con pioggia speriamo che domani il tempio si rassirene anche per dare un po di atmosfera più più festosa diciamo così più natalizia al tempo che si avvicina alle feste alle prossime festività le prime pagine dei giornali il resto del carlino questa mattina vediamo la fotonotizia dedicata ai danni che sono stati causati dal maltempo soprattutto nella zona sud di fano la rabbia dei sommersi pioggia e fango 11 evacuati addirittura 50 garage allagati tra ponte sasso e marotta una situazione veramente grave una delle più gravi che si è verificata in questi ultimi tempi e poi un caso di violenza a scuola studente sferra un pugno al professore docente soccorso al benelli di pesaro e portato in ospedale ferite lievi la lite tra i due e la reazione violenta del diciassettenne insomma poi vedremo cosa è accaduto veramente leggendo le notizie all'interno un colpo in banca una gang ha smontato le porte di accesso e poi è fuggita con 55 emello compressivi tra i due colpi effettuati a padiglione e a mondaino e parliamo di vaccino lab vaccinale contagi su contagi su crescono gradara riapri a dicembre con le terze dosi e poi un problema che è accaduto ad un trasporto scolastico a pesaro abbiamo che un bus insomma ha una guida incerta e sulla rotatoria studenti addirittura terrorizzati un fanese rischia cinque anni di carcere la fidanzata lo lascia e lui ha caricato video hot video caldi e proprio sul web e per quanto riguarda lo sport vediamo che inizia un nuovo capitolo per il fano calcio con il nuovo allenatore capellacci e per quanto riguarda il basket l'appello di tambone vl stiamo uniti la sintesi sul corriere adriatico i furbetti della tassa di soggiorno le indagini della guardia di finanza hanno riguardato un periodo di sei anni a pesaro 17 gli hotel sottoposti a verifiche evaso complessivamente un importo di 300 mila euro 10 sono gli albergatori denunciati per peculato e poi vediamo tre volti noti tre personaggi importanti per la regione Marche tre vincitori alla giornata delle Marche 2021 saranno premiati come appunto dei testimonial della nostra regione e sono Roberto Mancini Valentino Rossi Roberto Mancini lo conosciamo tutti il cd della nazionale Valentino Rossi che ha terminato una carriera strepitosa e Gianmarco Tamberi che ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Tokyo le tre notizie a centropagina a pesaro uno studente vuole andare a casa il professore gli dice resta e lui gli dà un pugno teste agli allunni e a scuola torna l'incubo della dad per quanto riguarda le vaccinazioni e banche un doppio colpo nella notte della stessa banda e poi abbiamo a fondo pagina l'articolo che riguarda la pioggia la conta dei danni evacuati anche diverse famiglie restiamo sul corriere adriatico sfogliamo l'interno e vediamo come la situazione dei vaccini sia sempre al palo le prime dosi vanno a rilento i richiami ancora non ci siamo il siero di rinforzo è stato somministrato a 67 mila 76 persone su una platea di 244 mila siamo ancora insomma indietro oggi c'è un incontro è stato programmato un incontro tra stato e regioni l'ipotesi è quella di valutare il green pass rafforzato per chi ha già la profilassi e l'altalena delle vaccinazioni abbiamo visto vari milenti per chi si deve avvicinare ancora la profilassi anti covid ma ci sono segnali a un aumento per il terzo siero e questo dipende da questo dipende poi anche il cambio di colore che siamo siamo sempre al limite siamo ancora in zona bianca ma la zona gialla non sarebbe lontana anche se il presidente della regione fa di tutto per scongiurare questa ipotesi e poi abbiamo un articolo che riguarda i tre personaggi di cui vi ho parlato di cui ci sono le immagini ci sarà un premio alle superstar la giornata delle marche dedicata ai campioni che sono diventati leggenda acquaroli dice sono esempio di coraggio e determinazione in questo anno molto molto difficile saranno premiati nel corso della cerimonia organizzata al lanciano forum di castel raimondo in provincia di macerata incubo frane ed esontazioni tutte le marche sono a rischio la regione risulta tra le sette in italia con il 100 per cento del territorio in pericolo solo a novembre cinque allerte meteo con forti mareggiate e smottamenti qui abbiamo delle mappe delle delle tabelle che illustrano la che illustrano le situazioni di pericolo delle varie province marchigiane noi responsabili insolido una legge che va cambiata parlano gli albergatori di fronte alla iniziativa della guardia di finanza che ha compiuto degli accertamenti in merito al pagamento delle tasse della tassa di soggiorno vediamo qui il titolo tassa di soggiorno evasa accertamenti in 17 hotel le indagini della guardia di finanza hanno riguardato un periodo di sei anni tra il 2012 e il 2018 un importo di 300 mila euro complessivi non dichiarato è stato appunto ritrovato dieci albergatori denunciati per peculato i nodi sono venuti al pettine ormai e la guardia di finanza ha denunciato queste persone che risultavano i gestori delle strutture ricettive al momento delle indagini che non avevano versato l'imposta per 17 alberghi ubicati sul territorio comunale di pesaro il reato è peculato e per qualcuno di loro è già scattata la condanna sono sei nello specifico gli anni presi in esame e su cui si sono concentrati le indagini le dichiarazioni appunto degli albergatori abbiamo quelle di fabrizio oliva proprietario di diversi alberghi di giulio lonzi che è direttore dell'hotel raffaello appunto di pesaro e luciano cecchini che è presidente dell'associazione alberghi consorziati di fano ma è anche presidente provinciale degli albergatori della conf commercio noi responsabili insolido una legge che va cambiata insomma ci sono problemi anche normativi per quanto riguarda il pagamento di questa di questa tassa e vediamo poi anche sul resto del carlino quali sono i problemi in discussione in modo più articolato guardia medica disagi e rompicapi sola di notte con i bimbi che faccio è un interrogativo questo che è stato posto da una donna che vive sola con due gemelli si è sentita male ha avuto una insofferenza ha chiamato la guardia medica il medico di turno gli ha detto venga nel nostro ambulatorio lei del resto abita nell'entroterra e la guardia medica è a pesaro venga nell'ambulatorio che la visito ha detto il dottore ma la donna ha risposto io come faccio lascio i due piccoli i due figli piccoli a casa da soli nel cuore della notte e poi io nella situazione di malessere in cui mi trovo come posso mettermi alla guida di una macchina di notte insomma una situazione piuttosto critica per quanto riguarda questo servizio che è fondamentale quando ovviamente al medico di base di notte non si può fare riferimento teste molecolari per studenti nel nuovo punto a tombaccia il centro tamponi aprirà giorni nella sede del mercato ortofrutticolo servirà a pesaro e anche l'interland biancani accolta la mia richiesta il consigliere regionale test molecolari e test rapidi per gli studenti in quarantena sono questi i due principali servizi che saranno svolti nel punto tamponi che aprirà sabato 27 novembre alla tombaccia nei pressi di pesaro lo studente pretende di uscire da scuola il prof non vuole e lui gli sferra un pugno una reazione veramente eclatante insomma una volta quando si andava a scuola nemmeno guardare storto l'insegnante si poteva con un occhiataccia adesso invece gli si sferra addirittura un pugno l'allarme è scattato a mezzogiorno al campus scolastico la polizia è arrivata al Benelli e trovato il docente addirittura dolorante a terra è stato ricoverato al pronto soccorso non sembra che sia in gravi condizioni e il fatto è nato da un alterco perché lo studente voleva andare a casa il professore gli ha detto guarda no non è il caso rimani fino all'orario conclusivo delle elezioni il ragazzo si è risentito la lite è un po si è un po vivacizzata addirittura poi esplosa con la reazione eclatante del ragazzo che ha dato un pugno in faccia allo studente in corso sono accertamenti nel 2018 addirittura un professore è stato minacciato con un accendino e lo studente in quel caso voleva dargli fuoco addirittura insomma siamo veramente a casi eclatanti un tavolo regionale sul disagio giovanile la richiesta avanzata dalla lega alla luce dei ricorrenti episodi il natale si salva con eventi diffusi attrazioni alla rocca dalla rocca a via curiel fervono a pesaro ma anche in tutte le altre località della provincia gli allestimenti natalizi accensione dell'albero a pesaro è programmata per sabato 27 con una sfilata di apertura è previsto in tutto l'allestimento delle luminarie in centro storico ci sarà la pista di pattinaggio attorno alla fontana in piazza il mercatino natalizio e la stazione di partenza del trennino di natale we pesaro christmas e poi allestimento tra piazzale lazzarini e via curiel dello scivolo di ghiaccio saranno presenti anche artisti di strada mercatini musica scuole di danza allestimenti realizzati da parte del luceo artistico mengaroni allestimenti nei borghi delle luminarie natalizie sfilate di apertura prevista appunto per il 27 per tutto il centro storico con partenza da piazzale lazzarini fino alla rocca costanza con la banda di candelara di novilara e tanti personaggi dei cartoni animati che amano i bambini cronaca doppio colpo in due banche in poche ore bottino ricco trafugata anche la cassaforte la banda ha svaleggiato l'agenzia padiglione di tavuglia ed è entrata in azione a mondaino alla banca di padiglione alla banca di padiglione hanno asportato 30 mila euro in quella di mandi mondaino e l'importo è stato leggermente minore 25 mila euro anche qui hanno portato via la cassaforte insomma una banda che agito in pochissimi minuti è scattata l'allarme ma prima che le guardie insomma prima che le forze dell'ordine arrivassero sul posto i rapinatori si erano già dileguati e però le indagini procedono una presa di posizione dell'udc rappresentato da pollegioni e del vecchio sulla nuova questura la polizia è rimasta inascoltata e la polizia dovrebbe essere il primo interlocutore per decidere dove realizzare questo nuovo stabile importante anche l'ubicazione per un pronto contatto sia con i cittadini che poi con il territorio ebbene pollegioni del vecchio sono critici su come è stata gestita la partita sin dall'inizio vediamo ancora altri articoli sfogliando il corriere adriatico siamo sulla pagina di Vallefoglia Vallefoglia d'autunno va in piazza un salotto per la mostra al mercato ancora iniziative di carattere enogastronomico tartufo funghi olio e melograno l'evento si terrà nel cuore di montecchio il 4 e 5 novembre a urbino abbiamo un articolo che riguarda l'attività del tribunale sesso con le sorelline a pietra rubbia tutti assolti non ci sono le prove prosciolte la madre è un'altra donna e strani anche i due anziani indicati dall'accusa come clienti ebbene è stato un caso che ha destato molta molta sensazione molta molta rinomanza ma sono stati tutti assolti quattro imputati nel processo per il caso di favoreggiamento e sfruttamento della prostitazione minorile con due giovanissime ragazze coinvolte a pietra rubbia il giudice insomma non ha creduto che i fatti denunciati siano veramente accaduti e a urbino è morto sorini decano degli aquilonisti più anime ducali in un unico sorriso bello questo titolo più anime ducali in un unico sorriso insomma come diverse passioni fossero compenetrate nella felicità nella dedizione di dedicarvi ad esse aveva 88 anni il funerale si terrà oggi alle 14 30 nel duomo il dolore del sindaco gambini per questa scomparsa sulla pagina di fano si parla dell'incontro che c'è stato ieri tra alcuni comuni e che fanno parte dell'ata sono i comuni di tipo organizzativo che poi organizzano anche le assemblee plenarie dell'autorità d'ambito all'incontro ha partecipato l'assessore mascherini discussione era sempre la raccolta dei rifiuti con la realizzazione del digestore insomma la il nuovo provvedimento del ministero della transizione ecologica che ha messo a disposizione 40 milioni di euro per la realizzazione dei digestori a patto che fossero di iniziativa pubblica mentre l'ata provinciale ha deciso di dedicare di riservare questo impianto l'iniziativa privata rimesso un po' in discussione il problema ed ora si cerca di vedere se è possibile recuperare questi finanziamenti che altrimenti andrebbero persi si terrà un altro incontro dopo il 24 novembre per poi riorganizzare una nuova assemblea dell'autorità d'ambito scuole ecosostenibili sventola la bandiera ambiente ed ecologia a fano premiato l'impegno dalla fe a tre direzioni scolastiche sono le direzioni didattiche di san lazzaro quella dell'istituto comprensivo padalino e il circolo didattico di santosso tre istituzioni che hanno così organizzato in maniera molto molto importante le attività che riguardano la compatibilità la tutela dell'ambiente e si parla anche di aeroporto in questi giorni a fano l'aeroporto riprova a riprendere quota dopo insomma i problemi bui del lockdown ammortamenti ridotti restano i gap ammortamenti ridotti dal bilancio quindi proficua l'attività del presidente massimo ruggieri restano però i gap per quanto riguarda lo sviluppo dell'aeroporto che non può utilizzare una nuova pista in cemento però tra le realizzazioni che sono state fatte viene evidenziata quella della pista per il volo notturno degli elicotteri molto importante sia per i soccorsi sanitari che per la protezione civile che con i cambiamenti climatici di questi ultimi tempi insomma destra particolare destra particolare problemi insomma sulla Val Metauro bocciodromo dimenticato una cattedrale nel deserto lavori infiniti e bando mai emesso la struttura funziona solo grazie alla società e si parla di Fossombrone mentre per quanto riguarda la Val Cesano si ritorna un po' nel comune di Fano a sud del comune case allagate famiglie evacuate danni e disagi a Ponte Sasso dieci residenti hanno trascorso la notte tra la casa di riposo Tonucci e San Lazzaro paura in zona dei laghi la statale chiusa fino alle 23 inagibili circa 50 garage sommersi sotto passi questo è un quadro di tutto quello che è accaduto l'eccezionale pioggia che è accaduto l'altra l'altra sera era già notte dalle 19 poi alle 21 alle 22 insomma un un ubifraggio particolarmente violento e il dottore della farmacia di via ferrari dice via ferrari come un torrente la farmacia è stata invasa e l'acqua fino a 80 centimetri negozi chiusi per il fango a marotta ritorna allo spettro del 2016 quando si verificò un'eccezionale alluvione a Senigallia due ore di sosta gratis per lo shopping natalizio cinema scontato a chi fa le spese in città covid permettendo ci sarà il mercatino nel villaggio di natale niente fuochi e festa però in piazza e a capodanno e diamo un'occhiata anche al resto del carlino questa mattina di cui molte notizie che sono state già lette abbiamo nelle prime pagine in evidenza la lite con il professore studente che ha sferrato il pugno all'arrivo della volante il ragazzo se ne era già andato le ferite dell'insegnante sono comunque molto lievi e poi una doppia fila per i vaccini prenotati e non dopo le proteste dei giorni scorsi è stato creato al ristò un corridoio apposito per chi è senza registrazione e ne passa uno ogni dieci iscritti e chi è senza registrazione senza prenotazione deve aspettare un pochino di più di rispetto a chi ha invece prenotato terze dosi col turbo riapre lab di gradara asure medici di medicina generale organizzano tre sabati mattina per accelerare sulle somministrazioni e si parte dal 4 dicembre si conta di fare 300 inoculazioni a seduta con accesso diretto oppure su prenotazioni e qui abbiamo le due pagine che riguardano e gli albergatori hotel pieni per le feste perso l'ottimismo a parlare così e paolo costantini da pochi mesi presidente degli albergatori che ha sostituito fabrizio oliva vediamo a destra della foto quindi questa pagina il natale in piazza dell'anno scorso con l'albero illuminato insomma costantini fa il punto solo candele a candelara può regalarci qualche presenza eventi sportivi sono in forse insomma non ci sono iniziative serali che possono indurre i turisti che vengono a visitare la città durante l'atmosfera di natale che possono così passare la notte negli alberghi della città un po di tutte le città e non solo pesano ma anche fano e poi restante della liviera e poi si parla anche della tassa di soggiorno se la tenevano in tasca sono i 10 titolari di 17 alberghi che sono stati denunciati dalla guardia di finanza doppio furto in banca il bottino è di 55 mila euro probabilmente è la stessa banda che è entrata in azione ieri notte sia padiglione che a mondaino scardinate le porte di emergenza e le casse con dentro il denaro in contante le indagini però potrebbero avvalersi in questo caso di testimoni e delle telecamere che potrebbero dare elementi preziosi ai carabinieri per individuare gli autori di questi furti e poi abbiamo su questa pagina del resto del carlino l'episodio del bus che barcolla sulla rotatoria studenti terrorizzati l'autista che era le prime armi era affiancato da un tutor verrà spostato su veicoli più piccoli per fortuna alcuni genitori hanno protestato con adria bus ebbene il pulmo era guidato da un praticante conducente un uomo di circa 58 anni inserito da poco nella linea che seppur affiancato da un tutor ha avuto dei problemi alla guida del mezzo insomma nella rotatoria dove occorre fare delle manovre per far passare il bus i ragazzi hanno ottenuto qualche insomma qualche incidente qualche problema e qui in questa pagina si parla anche dell'olio dell'olio e la raccolta delle olive l'olio è ottimo peccato che sia poco il bilancio di alcuni frantoide la provincia l'estate torrida ha seccato le olive ma la pioggia di settembre è stata provvidenziale e qui vediamo le foto della raccolta poi del della realizzazione dell'olio e poi la della commercializzazione e qui la foto di tommaso di dunque sì di tommaso de santis che è uno dei produttori e anche responsabile della col diretti per il nostro territorio a fano maltempo e allagamenti 11 persone evacuate fanno sud e marotta sott'acqua oltre 50 scantinati sommersi e più di 140 richieste di interventi ieri chiusi tre sottopassi e tre scuole e qui più che i testi vediamo le foto notizie che sono che evidenziano i danni che si sono verificati qui vediamo una auto che è rimasta sotto il fango in un garage vediamo l'acqua nella foto a ponte sasso l'acqua insomma che sta scorrendo verso il mare un'acqua limacciosa densa di fango e poi i soccorsi che vengono attuati e l'azione dei residenti che cercano di salvare il salvabile che purtroppo è stato sommerso dall'acqua o danneggiato dall'acqua degli scantinati codma ecco perché i volontari sono spariti si ritorna sulla notizia dell'assenza dei volontari al lab del codma la terza città delle marche rischia di perdere il suo punto vaccinale proprio mentre risalgono i contagi la protezione civile spiega perché è venuto meno il servizio e poi studenti quarantena ma il contagio avviene fuori al momento non c'è stata un'esplosione di casi l'assessore ai servizi educativi mascarin dice ci sono numeri modesti su 270 classi tra nido e medie mai più di due tre classi in isolamento e poi la gestione dei positivi in base alle nuove regole comporta un aggravio di lavoro enorme e questo documenta il disagio dei presidi per quanto riguarda lo sport vediamo il calcio è vero la visa ha perso due partite ma è cresciuta in consapevolezza piccinini 18 anni tra gli under con più minutaggio della c dobbiamo dominare il gioco con o senza palla insomma si guarda con fiducia al prossimo incontro per quanto riguarda invece il fano calcio vediamo che inizia l'era capellacci risaliremo dice il nuovo allenatore il nuovo mister ieri ha diretto il primo allenamento possiamo dare tutti qualcosa in più ha detto adeguo il modulo ai giocatori e poi ancora ero un allenatore in disuso e non mi aspettavo la chiamata i giocatori sono i veri attori appunto della squadra insomma dell'attività e vediamo anche quello che si dice per il basket la vl la difesa unisce è ora di capirlo tambone scuote la squadra dopo il disastro con napoli allenamento punitivo non siamo bambini ma era urgente parlare avarese arrivò che arrivamo che eravamo ultimi con lui ci qualificamo ai playoff il vero tyler non è questo qua dice l'involuzione di larson vediamo anche i titoli che appaiono sul corriere adriatico in merito allo sport e vediamo che la vis dopo gli elogi chiede di fare punti anzi deve fare punti il difensore andere piccinini è sempre tra i migliori della squadra di banchini arriviamo da due gare ben giocate ma perse con la carrarese si deve per forza vincere e per quanto riguarda invece il fano calcio proverò a rilanciare la squadra l'ha detto il nuovo allenatore capellacci che si presenta con un profilo basso ma sicuramente molto concreto devo capire intanto perché questo gruppo finora non è riuscito a rendere come ci si aspettava ed era l'ultima notizia chiudiamo i giornali massimo foghetti vi saluta vi dà appuntamento a domani alla rassegna stampa delle ore 7 per le notizie del giorno invece vi invito a seguire il tg delle ore 20 e 30 questa sera su fano tv buona giornata